Nell'Italia dal sapore un po' alla Don Camillo e Peppone dei primi del Novecento ci sono luoghi e personaggi che hanno rappresentato veri punti aggregativi e di riferimento delle comunità. Se chiedete ai vostri nonni che hanno abitato uno dei paesi del nostro entroterra quali erano le figure di riferimento per tutti la risposta sarà il parroco, il sindaco, il barbiere ed il farmacista. Già, il farmacista, colui che preparava nel proprio laboratorio rimedi e unguenti per i malanni dei paesani ma anche una persona istruita e colta a cui rivolgersi per questioni di vita. A San Costanzo la farmacia Scarponi lo sa bene perché da cento anni è al servizio della comunità e di questo traguardo ne va ben fiera. Quattro generazioni di farmacisti e un amore smodato per la propria città dal 1906. Non ci aspettavamo una risposta così calorosa da parte del paese, addirittura una persona, una sceneggiatrice che è originaria del paese ci ha dedicato una poesia veramente molto bella. Il sindaco ci ha regalato un coccio dipinto da un artista locale, Fabrizio Bisioli, un coccio che il comune ha fatto fare per le attività storiche e per le benemerenze. Ci siamo sentiti molto orgogliosi di questo regalo e sette, ottocento persone contro le nostre aspettative che erano di 500 hanno partecipato e festeggiato con noi questo traguardo ultracentenario. Sì, siamo sempre state una farmacia presente sul territorio perché dal 1906 che siamo presenti in paese. È sempre stata una farmacia a carattere familiare nel territorio perché poi c'è stata mia zia che collaborava con mio nonno, mio zio, il fratello di mio padre e adesso mio marito che comunque collabora con un'impresa familiare all'interno del paese.